L'Accademia Calcio Roma stacca il bilietto per le semifinali regalandosi la sfida della prossima settimana contro la nuova Totteteste e piegando un grifone Monteverde che si è approvato per tutta la ripresa, non riuscendo però a scardinare la porta di Peri ma lasciando i play-off, tre militari applausi per il quanto fatto in questa stagione. La gara inizia subito bene per i ragazzi di Papotto e dopo soli tre minuti Antenucci scende bene a sinistra e mette al centro un pallone sul quale Brighi deve solo deviare in rete il rapido vantaggio locale. Passano solo cinque minuti e l'Accademia prova a scappare. De Bartolo lancia in profondità ancora Brighi che vede l'uscita di Carloni e con un morbido lob mette decisamente in discesa la strada verso le semifinali. A questo punto però il grifone si sveglia e reagisce in maniera vehemente tanto che al dodicesimo Quattrini taglia bene sul primo palo girando la punizione di rimaggio alle spalle di Peri e rimettendo tutto in discussione. Alla mezz'ora torna a farsi vedere l'Accademia ma la conclusione di Brighi questa volta non inquadra lo specchio mentre dalla parte opposta nessuna maglia rosso-blu arriva a deviare il diagonale di Gnazzitto. Nel finale ancora Brighi a provarci, destro da fuori ma Carloni non deve neanche intervenire. Nella ripresa il grifone ci mette il cuore e spinge il piede sull'acceleratore. Alla diciannovesimo la punizione di Dimaggio attraversa tutta l'area ma sul secondo palo non arrivano deviazioni decisive. Alla venticinquesimo riesce invece Setta ad abitarsi sul cross di Gnazzitto ma per i blocca sicuro. Alto a solo rosso-blu poco più tardi ma il numero uno di Papotto controlla senza troppe apprezzioni così come al ventinuesimo sul destro dalla distanza di Dimaggio. Nel finale sempre Dimaggio a guidare l'assalto del grifone il centrale di Radici prova prima di destro al quarantasettesimo poi di testa al cinquantesimo andando in entrambi i casi ad un soffio dal palo. L'ultimo brido lo crea ancora la formazione di Radici ma proprio davanti la porta è Quattrini a divorarsi il gol che avrebbe portato alla questione supplementari. Finisce 2-1 per l'Accademia Calcio Roma che passa il turno e vola in semifinale. Sabato prossimo i ragazzi di Papotto si regheranno al Candiani per cercare di proseguire la propria avventura.